17 marzo 2010 siamo a via dal bono numero 7 delle palazzine in a casa caro sindaco mi trovo a via dal bono numero 7 le condizioni di queste palazzine abbandonate anche per il manto stradale spazzamento ed altri problemi manutenzione catitoie danni che non si fa il manto stradale ripeto mi trovo a via dal bono numero 7 le palazzine isolato g vediamo le condizioni di queste palazzine ecco vediamo anche la sporchizia vediamo l'abbandono completo delle palazzine di via dal bono numero 7 caro sindaco ci troviamo penso che sia da parte dell'amministrazione deve essere un impegno che anche loro hanno diritto ai servizi che il comune debba offrire ai cittadini che pagano le tasse ma qua più che servizio si vede che qua è abbandonato a via dal bono numero 7 nelle palazzine notiamo le condizioni le condizioni igienico-sanitari giardinetti abbandonati vediamo anche qua la catitoia si si sto riprendendo tutto ripeto siamo a via dal bono numero 7 isolato g penso che non ci sia bisogno dei commenti ma già le immagini parlano vediamo anche questa buca catitoia otturata pezzi di auto e qua che cos'è infatti ripeto ci troviamo via dal bono numero 7 e dobbiamo provvedere anche qua grazie a tutti